La notizia è stata riportata negli ultimi giorni su tutti i quotidiani, tutti i quotidiani locali. Possiamo vedere anche questo titolo, Sottoscorta per minacce, ma sono solo un ragazzo che ha salvato un cinema. E a dirlo è Valerio, un giovane che non ha neanche 30 anni, 28 anni, che da tempo è presidente dell'associazione Piccolo America e porta il cinema gratis d'estate nelle piazze della capitale e fa quest'opera di diffusione della cultura e del messaggio cinematografico. E oggi è con noi, lo salutiamo, buongiorno, benvenuto a Valerio Carocci, presidente dell'associazione Piccolo America. Allora Valerio, partiamo da questa notizia, da questa notizia recentissima di qualche giorno fa. Hai subito minacce, hai subito aggressioni negli ultimi tempi, sempre più pesanti, tanto che la prefettura di Roma ha emesso un provvedimento di tutela e adesso vivi Sottoscorta. Per te, per un ragazzo di 28 anni, che cosa significa questo stravolgimento di vita, questo cambiamento di vita? Intanto grazie, buongiorno a tutti. Lo stravolgimento non è tanto la scorta, ma è il fatto che non ci si senta più liberi di circolare. E lì è quando ci sono le aggressioni, le minacce di qualunque entità sia, non in forma di violenza, che cambia un pochino la vita. La scorta in realtà, e ringrazio la prefettura, ristabilisce la mia serenità, quanto meno lavorativa. Sulla vita personale magari è un po' meno serena di tante altre situazioni di prima, e quindi alcune cose si vivono diversamente, però almeno si continua a lavorare. Tu hai detto che ti senti quasi in colpa per avere la scorta, è così? Sì, perché mi sembra assurdo che ci sono tante altre persone che hanno molte più difficoltà di me, che fanno cose molto più pericolose, quindi ho un senso dello Stato, ho un senso di rispetto per il Paese, per i miei concittadini, e mi dispiace che questo Paese debba tenere sotto d'occhio di me. Penso anche, facendo un esame un po' interno, che forse ho sbagliato qualcosa io, che forse devo essere io allegittimami meglio nello stare in giro. E allora facciamo proprio un passo indietro, raccontiamo meglio proprio la tua attività e la tua storia. Era il 2012 quando insieme a un gruppo di amici ventenni avete deciso di salvare il cinema america di Trastevere, a Roma, che rischiava di essere demolito. Come è andata? Era il 2012, eravamo tutti ragazzi usciti dalle scuole, per lo più provenienti dalla periferia, e abbiamo tentato di costruire un luogo in cui poter essere protagonisti e non semplici truitori. C'erano tantissimi cinema abbandonati, questo stava per essere riconvertito in parcheggi e appartamenti, e ci siamo in qualche modo tuffati in un'esperienza che potesse metterci insieme, potesse darci l'opportunità di crescere. Sbagliando siamo cresciuti e siamo riusciti nel giro di due anni a salvare questo cinema, bloccando la demolizione, e poi a trasformare un'esperienza di ragazzi che ha iniziato a colorare i muri della città con il cinema. Ecco, dicevi tu, amici, venite dalla periferia, che cosa hai fatto prima di iniziare questa attività, di dedicarti a questa che poi era la tua passione? Beh, sono stato 12 anni uno scout nell'associazione del CNJ, amo molto lo scoutismo, lo consegno a tutti, e poi studiavo in un liceo del centro, che era il liceo Cavour, e la sera consegnavo le pizze a casa al bruciato, la pizzeria e il peperino, che saluto. Allora, per la vostra attività avete avuto il sostegno anche di grandi registi, grandi nomi del cinema, ne ricordiamo qualcuno, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola, quindi tanti consensi, tanta popolarità e tanta partecipazione, ma questi episodi di violenza, queste aggressioni, anche alcuni e altri ragazzi dell'associazione sono stati aggrediti, picchiati, tu hai subito minacce, intimidazioni, come ti spieghi questa ondata di odio e di violenza nei vostri confronti? Perché? Beh, perché quello che facciamo funziona, e quindi funzionando, animando le periferie, creando delle città, dei luoghi d'incontro, avendo trasformato in qualche modo anche nel nostro piccolo, nei nostri quartieri, lo stato di crisi del Covid, nell'opportunità di costruzione di una comunità, le persone in qualche modo hanno anche una cosa molto naturale, che poi è l'invidia, e quest'invidia spesso sfocia in atti violenti, e questo è brutto, ma esiste, fortunatamente c'è lo Stato che risponde, ma noi continueremo a fare quello che facciamo. Ecco, infatti nelle tue parole sicuramente non c'è una resa, c'è tanta progettualità, c'è ancora tanto entusiasmo, il vostro obiettivo è quello proprio di portare il cinema gratis, nelle piazze, nei giovani, creare quindi anche dei momenti proprio di incontro. Sì, noi crediamo che tramite il cinema si possa riportare la luce, come abbiamo fatto a Cervelletta con la Regione Lazio e l'Enteroma Natura, abbiamo rilluminato i sentieri che uniscono adesso i quartieri di Coglianiene, Tor Sapienza e Tor Cervare, e ha creato un grande polmone verde della città. Noi utilizziamo la luce dei nostri proiettori per rendere di nuovo i territori sicuri, e mi dispiace che queste arene in questo momento debbano essere presidiate dalle Forze dell'Ordine, perché è giustissimo, le Forze dell'Ordine fanno un lavoro importantissimo nel nostro paese, ma abbiamo sempre rivendicato che i luoghi sono sicuri anche solo con la cultura, quindi ci dispiace anche nei confronti di questi territori, di Trastevere, di tutte le attività e le persone che vivono Piazza San Cosimato, che in qualche modo ci sia adesso un controllo delle Forze dell'Ordine, però noi vogliamo che questi luoghi siano sicuri con la cultura e quindi vogliamo tornare a questo momento qui. Voi avete ricevuto tante manifestazioni di solidarietà, e questi quartieri come hanno anche reagito a queste notizie, all'intimidazione, alle violenze, alle aggressioni? Che tipo di sentimento avete percepito? Diciamo che sicuramente crea difficoltà, crea tensioni, però ricordo sempre e saluto Simonetta Antonucci di Trastevere, che per anni ci ha preparato la pasta dentro casa e l'ha portata nelle teglie sotto, la ricordo la signora Anna Belloni che ci invitava a casa a pranzo, c'è Mariolina che mi fa ogni tanto la caprese e mi piace tanto, quindi c'è un rapporto molto... Tanto, tanto, tanto affetto. Volevo chiederti questo, allora voi portate il cinema gratis nelle piazze, e dall'altra parte però c'è un settore, quello dell'industria cinematografica, che in questo momento è fortemente in crisi e ha subito anche pesanti ripercussioni. C'è un punto di equilibrio, un punto di contatto tra questi due mondi? C'è il vostro mondo di giovani che volete portare la cultura e il cinema gratis, con chi invece ne fa un lavoro e proprio soprattutto in questo momento ha una grande crisi? Sicuramente colgo l'occasione per dare la nostra solidarietà a tutti i lavoratori dello spettacolo, alle tante sale cinematografiche chiuse. Il punto d'incontro è che noi stiamo formando un pubblico che fruisce il cinema gratuitamente sulle nostre arene affinché poi paghi il biglietto nel Cinema Troisi. Vogliamo essere parte integrante dell'industria cinematografica e in particolare abbiamo dato all'ANICA, all'Associazione Distributori e Produttori, la possibilità di proiettare il loro spot promozionale della campagna Moviment su tutti i nostri schermi e stiamo aspettando una risposta. Quindi il punto d'incontro è stato trovato. Prima di chiudere, il programma di quest'estate, delle vostre serate, e anche il Cinema Troisi a Trastevere che sta, riaprirà a novembre. Siamo in chiusura brevemente. Ci vediamo il 6 agosto con Tony Gai che presenterà American History X, il 16 agosto Pavel Pavel Costi che presenterà Cold War e Carlo Verdone che omaggerà il 28 agosto Alberto Sordi. E poi in novembre finalmente dovremo aprire il nostro primo cinema che è il Cinema Troisi di Trastevere e aspettiamo tutti nella nostra sala. Grazie, grazie Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America e buon proseguimento per portare avanti tutte queste bellissime iniziative culturali. Grazie di cuore dell'opportunità. Ragazzi dell'Associazione Piccolo America